senior maschi al pello e allora andiamo a vedere questa gara con l'atleta della polisportiva di Bellusco che si porta in testa a Bedon seguita da Clementoni poi la coppia della Menzana al passaggio Contagiri a meno 23 siamo ancora nelle fasi interlocutori un paio di treni al passaggio sul traguardo con Bedon, Clementoni e Minghi nelle prime posizioni al passaggio sarà il suono della campana ed entriamo nei punti con la coppia dei diavoli rossi che si è portata in testa a lanciare la prima volata dei punti di meno 21 343 461 quindi punti per Baddiato e Salanetti che ora si è portata in testa punti 489 483 ricordiamo che in questa gara a ogni giro siamo saliti di categoria viene assegnato un porteggio abbiamo un quartetto in testa punti 483 qua 343 passano il turno le prime 10 ancora la coppia dei diavoli rossi in testa siamo ai punti di meno 18 343 489 489 ancora in fuga 4 atleta e punti 489 483 punti 461 343 quindi le due atlete dei diavoli rossi la prossima volta ti dirai infatti Saranetti imbattiato di mattino ora torna sotto il gruppo punti 4 3 4 3 4 8 3 3 al passaggio punti di meno 14 3 5 4 4 3 2 4 4 quindi dispone Fogli al passaggio precedente e ora 4-2-4-42 Clementoni e Betonna e allora ecco ancora il gruppo ormai allungatissimo siamo ai punti di Nero 12 4-3-2-4-2-3 ed è ora Betonna che allunga Betonna si è portata in testa siamo ai punti di Nero 11 gara veloce 42-221 Betonna e Migni eccoci ora i punti di Nero 10 320-42 quindi al giro precedente siamo di nuovo ai punti 2-2-1 320 Migni Migni Rati Migni Rati Bedonna e poi abbiamo un'altra atleta a formare il quartetto di testa che va ora a prendere i punti 318 rocchetti 318 rocchetti 2-2-1 Migni rocchetti minghi, rati, vedon queste sono le atlete in testa 3, 1, 8, 2, 2, 1 318 rocchetti, 221 minghi rocchetti, vedon minghi rati questo è il tuo atletto che ormai è rimasto fuori ai punti di meno 6 42, 320 beton rati ora loro tre dalle lo spot inside in testa ma all'esterno risale a posizioni rocchetti 318 320 352 ammonita minghi rocchetti rati, vedon punti 221 320 erano i punti di meno 4 minghi rati rocchetti vedon nelle prime 4 posizioni punti 318 320 quindi continuano a fa punti rocchetti e rati a lunga rati punti di meno 2 320 42 ancora in testa l'atleta dell'insai seguita da quella dell'atleta della polisport di bellusco 440 monita punti di meno 1 e ultimo giro 320 42 ultimo giro le prime 10 in finale 320 318 432 folli un punto partita la seconda batteria cimarosto bocchini fracolini iannarelli trovo zanella vitale angelini libradesso briozchi poeta viganò zivelonchi tonini castorina palungo serafine mi hai biondi castorina e allora come abbiamo visto in precedenza dal momento della campana ad ogni in giro ogni passaggio sul traguardo assegnazione punti numero 48 il numero 433 ammonite castorina in testa seguita dagli annarelli numero 46 ammonita castorina gli annarelli 473 ammonita campana entriamo nei giri che assegnano punti punti tanti punti la castorina in testa seguita dagli annarelli quindi abbiamo la volata dei primi punti quelli di nero 21 48 458 quindi gianarelli martina castorina punti punti 180 459 quindi entrano nei punti biondi e poi l'altra castorina Giorgia ora in testa le due castorina al passaggio di meno 19 punti 459 458 ancora castorina in testa seguita dall'atleta della menzana al passaggio i punti 458 442 anche se la fin resta in testa l'atleta della menzana e siamo ai punti di meno 17 442 449 quindi anche in vitale nei punti l'atleta della prianza in line ora è trovo che si è portato in testa andiamo ai punti di meno 16 48 233 Giannarelli trovò punti di meno 15 459 498 Zanella va a prendere punti ricordo le prime 10 di ogni batteria attualmente sono 7 le atlete a punti 498 233 Zanella trovò ed Emma trovò in testa l'atleta dell'alte cercato 3 perseguita da Castorina diamo i rossi c'è lo sprint di meno 13 180 233 biondi trovò biondi Castorina trovò Castorina punti 459 493 493 493 458 ora Serafin si è portata in testa l'atleta della menzana siamo i punti di meno 9 4 4 2 46 Serafin Brioschi l'altra attretta della polisportiva di Bellusco siamo i punti di meno 8 48 458 gli anarelli passiamo già i punti 458 459 459 gruppo che si è riconfattato al passaggio saremo ai meno 6 punti 459 458 459 459 425 442 nel passaggio precedente è la prima 459 459 poi 458 siamo ai punti di meno 4 468 442 quindi quindi è tra i punti anche Tognini un po' che si è fatto più esibuo nelle unità siamo al passaggio dei meno 3 48 468 gianarelli la numero 48 entra in diffida ora Emma trovò che si è portata in testa ai punti di meno 2 233 180 trovò Piondi trovò Piondi Castorina Castorina siamo al passaggio di meno 1 suono della campana ultimo giro punti 233 458 Castorina trovò Piondi Castorina poi Timbranesso poi le altre le prime 10 in finale 458 459 180